1 too many times BELLA A TUTTI RACA, QUA I BANGRAPPI Siamo con questo nuovo video Oggi vedete come sottofondo uno dei gameplay preferiti che ho finora su Black Ops 3 Tato con... cioè il Tato Ho fatto questo gameplay mentre giocavo con Isetz Che saluto E questo gameplay ha una storia particolare Visto che dopo questa partita che vedrete ho preso la prima Clipper Live Time 3 Quindi è qualcosa di veramente figo Comunque non voglio parlare tanto del gameplay anche se molto molto bello da vedere Voglio parlare di un progetto che ho intenzione di iniziare per interagire molto più con voi Innanzitutto per chi ancora non lo sta facendo seguitemi sulla pagina Facebook Perché il centro di questo progetto è proprio la pagina Facebook Perché vi sto dicendo questo? Semplicemente perché vorrei fare dei video, dei live Dove io prima sulla pagina Facebook ragazzi sto registrando un video Potete scrivere qui sotto questo stato quello che volete Farmi delle domande, scrivermi Per chiederti Per rispondere alle cose che mi scrivete sulla pagina In modo da poter interagire Visto che c'è tanta gente che mi scrive, che mi chiede consigli Tutte queste cose qua Io volevo fare questa cosa per avere uno scambio con voi In modo che voi possiate avere risposta da parte mia Anche se comunque io ho sempre risposto a tutti Formato video Cioè così potete interagire e vedere voi stessi Quindi io credo sia, possa essere una bella idea Perché così diciamo che rispondere alle vostre curiosità Se avete bisogno di consigli o di qualsiasi cosa Vi risponderò nel video Così siete anche più invogliati a guardare i video dove non ci sono per forza clip Visto che voglio variare molto come video quest'anno Voglio cercare di fare qualcosa di diverso Anche non sempre solo le solite clip Per cambiare anche un po' e avere una relazione con voi Nel senso di essere più una persona E non tanto un player e basta Anche se comunque i video con le clip ci saranno sempre Perché comunque il mio canale è basato sui montaggi E sugli episodi, sui mini-tage, su queste cose qua Quindi alla fine ci saranno sempre queste tipologie di video Però avremo anche qualcos'altro Avrete qualcos'altro da vedere come appunto questi video qua Ultima cosa prima che vi lascio E vi do l'appuntamento al prossimo video State attivi sul canale Perché il prossimo video sarà la Clip Race contro Wrath La seconda parte della Clip Race La prima La trovate sul suo canale se non l'avete ancora vista Vi lascio il link in descrizione Vi invito ad andarla a vedere Visto che abbiamo registrato in 5-6 partite Quella che è andata sul suo canale In 5-6 partite abbiamo registrato quella che andrà sul mio E io ci metterò veramente tantissimo ad entrare Adesso devo ancora finire di montarla E' un video a cui tengo veramente tanto Quindi state attivi sul canale Perché veramente un video E verrà un video epico secondo me Quindi il succo di questo video è Seguitemi sulla pagina Facebook Sulla pagina ho detto Rendetevi conto Sono dislessico di mano a mano a sconda Comunque seguitemi sulla pagina Facebook Così possiamo appunto tenerci qui in contatto Possiamo essere tutti una grande famiglia Visto che su Facebook siete più o meno 110-120 persone che mi seguite Quindi siete pochi rispetto a tutti quelli che siete qui Quindi davvero seguitemi lì Lì scrivo tante cose Scrivo come vanno i video Cosa carico Se voglio fare qualche video che coinvolge voi Quindi per favore seguitemi lì Perché è davvero davvero importante per me Avere un contatto con voi Detto questo ci vediamo al prossimo video Che appunto sarà la clip race Che probabilmente arriverà tra venerdì e sabato Però più sabato che venerdì Ci vediamo al prossimo video Qua era rapi Bella